Buongiorno a tutti. Sono Flaviano Calzolari e oggi vi porto a vedere una nuova proprietà a Cassina de Pecchi, in un villaggio di soleville, una soluzione davvero unica nel suo genere. Siamo in una zona dove regna la tranquillità, il silenzio, la pace, ma nonostante questo non siamo assolutamente distanti dal centro del paese e dalla fermata della metropolitana verde Cassina de Pecchi. Ma venite con me, vi faccio vedere qualcosa in più. La soluzione è posizionata esattamente al centro di un lotto di circa 600 metri quadri. Si sviluppa su tre libelli abitativi, piano seminterrato, piano terra e primo piano, tutti i piani di circa 100 metri quadri ciascuno. All'interno avrete tutto lo spazio per vivere al meglio la vostra soluzione abitativa. E poi un meraviglioso giardino disposto su tutti e quattro lati della casa, davvero uno spazio ideale per vivere con la famiglia all'esterno della nostra abitazione. E poi una zona esterna proprio adiacente alla nostra cucina, dove mangiare, fare grigliate con gli amici, con la famiglia, insomma davvero una zona ideale per godersi il giardino della nostra villa. Sempre a questo piano poi abbiamo due camere da letto, due bagni, poi abbiamo un ulteriore piano mansarda, un piano seminterrato con la taverna, ma non voglio svelarvi tutto quello che c'è dietro questa casa. Se volete vederla, il link in descrizione, potete chiamarmi.